Musica Bentornati, è lunedì, il weekend è finito, è arrivato, se ne è andato via subito, è stato velocissimo e non mi sono accorto di niente che è quello che normalmente ti dice la tua ragazza perlomeno una volta a settimana lo sappiamo benissimo, è inutile che cerchi di nasconderlo Bentornati, spero che sia stato un buon inizio settimana questo tipo è il protagonista della nostra storia e ovviamente quando dico questo tipo intendo non abbiamo una foto di questa persona quindi ecco un disegno fatto in due secondi da me ma dalla magliettina, dal cappello e dalla barchetta si capisce benissimo che questo qui è un capitano di una nave russo che è il responsabile del fatto che questa nave qui a febbraio di quest'anno si era schiantata sulla Scozia dopo essere partita la Belfast alla volta della Norvegia perché wow andiamo verso la Norvegia trasportando un carico di carta nope ci siamo appena schiantati e indovina cosa? lo schianto che è avvenuto mentre la nave viaggiava al massimo della velocità apparentemente ha causato non solo tantissimi danni alla nave che uno può dire vabbè se la vedono loro ma anche al mare dato che 25 tonnellate di carburante si sono riversate in mare e appunto dopo praticamente un anno si viene a scoprire che la ragione per la quale quest'uomo che ha 36 anni e parecchi anni di servizio alle spalle apparentemente ha fatto spiatellare la nave su degli scogli che poi è peraltro rimasta lì per due giorni a causa delle avverse condizioni meteo che impedivano i soccorsi e da ricercarsi nel fatto che nonostante non si possa ovviamente bere niente quando si guida qualcosa ancora di più una nave avesse bevuto del rum metà bottiglia di rum apparentemente perché non c'è alcuna situazione o persona ed è così è inutile che lo neghi solo perché vuoi fare il figo perché ti ho ferito parlando di te e della tua fidanzata e di vostre cose private qui davanti a tutti che possa portare alla frase sai cosa ho bevuto metà bottiglia di rum e mi sento benissimo sono pronto a guidare una nave in mezzo al mare forza 8 o qualsiasi cosa lo può fare un pirato un pirata può dire questa cosa ma anche lui sa di mentire normalmente quando qualcuno pensa a un pirata pensa un sacco di cose avventurose, fantastiche ma tra queste non c'è la salvaguardia ambientale né la sicurezza di un viaggio tranquillo nel frattempo e questo non è accaduto a febbraio è accaduto venerdì scorso un tizio a New Orleans questo tizio New Orleans si trova qui negli Stati Uniti sta guidando la sua macchina sono circa le 4 del mattino il ragazzo è uno studente di medicina che evidentemente era in giro per il venerdì sera quando improvvisamente vede a bordo della strada questa scena qui che è stata ripresa da telecamere di sorveglianza di un'attività di un privato lì vicino e questo qui, questa massa in forma di roba se guardate bene si capisce che è un uomo che sta trascinando una donna cercando di portarla all'interno della sua macchina contro la volontà della donna che il 25enne che si chiama Peter Gold al quale tutti quanti si stanno riferendo giustamente come eroe decide di intervenire ferma la macchina scende dalla macchina e affronta il criminale dico criminale perché anche se lì magari non era effettivamente chiaro cosa stesse succedendo magari era, non so, qualcuno che stava molto molto male lui, non so, stava cercando di riportare la propria amica a casa tira fuori una pistola che ovviamente non si sposa più con questa tesi punta l'arma contro il ragazzo che ovviamente solleva le mani perché questo è quello che succede quando salta fuori un'arma da fuoco non ci sono mirabolanti mosse di karate che disarmano la persona semplicemente guarda, non ho niente sulle mani per favore non mi sparare e comunque no non ho soldi perché questo è quello che il ragazzo apparentemente e tutto si vede in video non ve lo sto mostrando perché altrimenti youtube rompe eccessivamente dice all'uomo che in tutta risposta si innervosisce prima gli spara allo stomaco e ovviamente questo nel video non si vede e poi il peggio ovvero cerca di finire il giovane sparandogli in fronte soltanto che l'arma si inceppa questo criminale che ha questa sorta di pistola con un caricatore lunghissimo peraltro scuote la pistola prova una seconda volta l'arma è inceppata ai che sale in macchina e se ne va e adesso ovviamente è ricercato per millemila motivi ovviamente questa notizia è stata accolta in vari modi alcuni appunto dicono che il ragazzo è stato un eroe proprio perché è sceso dalla macchina senza pensare a quello che gli sarebbe potuto capitare cosa che posso perfettamente comprendere spesso si hanno delle reazioni quando si vede qualcuno in pericolo che sono assolutamente istintive non è che uno sta a pensare mi succederà qualcosa di brutto oppure no vedi che una donna viene trascinata alle 4 del mattino sul marciapiede e interviene d'altra parte capisco anche tutte le altre persone che dicono che probabilmente avrebbe dovuto chiamare le forze dell'ordine e che gli è decisamente andata bene perché sopravviverà ovviamente al colpo di pistola nello stomaco ma a quello in testa sicuramente non sarebbe sopravvissuto questo problema ovviamente rinfresca tutto il dibattito in merito alle armi da fuoco negli Stati Uniti c'è anche stata una sparatoria gigantesca sempre a New Orleans peraltro è avvenuta in questo parco nel quale si è organizzata una festa una sorta di festa non autorizzata nella quale si stava anche girando un video musicale rap apparentemente qualcosa di questo tipo due bande diverse hanno iniziato a spararsi contro c'erano circa 200 persone che sono ovviamente state disperse dalla polizia 16 sono rimaste ferite e adesso ovviamente le stesse forze dell'ordine che hanno preso i nominativi di un sacco di presenti faranno delle domande perché è praticamente impossibile che dove ci sono 200 persone nessuno si accorga che ci sono dei tizi da una parte e degli altri tizi dall'altra che si puntano delle armi addosso e blam 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 questa notizia credo che sia una roba interessante innanzitutto perché New Orleans è una città molto violenta è una di quelle che ha un certo tipo di problema assieme ad altre città americane alcune anche molto più famose nelle quali le sparatorie avvengono di continuo tanto che ho trovato interessante comparare questa situazione a quella che sta avvenendo a Bruxelles dove saprete sicuramente da due giorni la città belga è praticamente chiusa e questo a seguito appunto dell'intervento dei militari che stanno svolgendo azioni di antiterrorismo hanno arrestato almeno 16 persone hanno fatto sapere che probabilmente gli arresti saranno di più anche in questa giornata sono stati chiusi visto che il livello di allerta è il massimo gli uffici pubblici, le metro, le scuole, le università qualsiasi posto dove la gente va e fa le file e fa i gruppi che possono facilmente essere poi obiettivo di attentati terroristici dato che il livello di allerta in Belgio in questo momento è al massimo possibile il che è peraltro interessante appunto sta facendo un casino proprio perché si sospetta in Belgio si annidino altre cellule legati a gruppi terroristici internazionali io poi sono andato a vedermi qualche dato e quando si prendono dei dati effettivamente e si mette il tutto in prospettiva perché è sempre una questione di prospettiva risulta che è molto molto più sicuro anche in questo periodo per dire di grande allerta farsi un giro a Parigi rispetto a farsi un giro che ne so, a New Orleans, a Los Angeles, a New York o praticamente in tutta l'America Latina giusto per capirci infatti dal 2000 al 2013 sono soltanto 13 anni gli attacchi terroristici in tutto il mondo sparatorie, esplosioni, gente che fa saltare in aria le macchine robe di questo tipo hanno fatto 107.000 vittime in tutto il mondo ma nello stesso periodo negli Stati Uniti sono morte 222.000 persone quindi più del doppio a seguito di sparatorie però non legate ad attentati terroristici semplicemente qualcuno con un'arma che spara verso qualcun altro proprio come nei due casi di New Orleans e questo dovrebbe dare un'idea di come funziona il terrorismo e di quanto pericoloso sia il terrorismo è come la paura di cadere con l'aereo sì certo, l'aereo può cadere, può esplodere possono succedere mille cose ma è molto molto più probabile morire in macchina cioè nonostante le persone vanno in macchina continuamente non si è mai sentito di qualcuno che abbia il terrore di salire in macchina dipendentemente da chi guida in effetti però è una cosa che normalmente non si sente continuiamo a mettere le cose in prospettiva giusto un altro dato e poi ce ne andiamo a casa a bere l'orzata vediamo solo il 2012 come esempio qualche anno fa nel globo ci sono stati 437 mila omicidi quasi mezzo milione di persone ha perso la vita perché qualcuno ha sparato a qualcun altro o ha colpito qualcun altro molto forte robe di questo tipo sto volando sul fatto che il 33% di queste morti è avvenuta in America Latina e nei Caraibi che sono soltanto l'8% della popolazione quindi un luogo un po' pericoloso di queste 437 mila persone sapete quante ne sono morte a seguito di attentati terroristici? 11 mila meno di quelle che lo stesso anno sono morte per altri tipi di omicidi negli Stati Uniti 12 mila anche se molte di più di quelle che sono andate incontro a un destino di questo tipo in Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Francia messe assieme il che appunto ci riporta al fatto che gli Stati Uniti sono pericolosi più pericolosi dell'Europa ma i terroristi sono meno pericolosi della gente comune negli Stati Uniti e soprattutto in Russia per dire questo è un grafico interattivo di quelli che ci piacciono tanto lo trovate in descrizione assieme a tutto il resto e tutti i dati che vi sto lanciando in faccia che mostrano che a prescindere dal terrorismo a prescindere da tutto le zone del mondo pericolose sono alcune e non sono quelle che normalmente pensiamo che siano a questa gentaglia è tutto per oggi grazie per aver guardato i commenti come al solito sono qua sotto andate fatemi sapere la vostra opinione in merito alle cose così io poi la mattina il giorno dopo posso bermi il caffè e leggere i vostri commenti il caffè americano quello lunghissimo pieno d'acqua io bevo quel caffè questi sono piccoli dettagli che rovinano sempre di più la relazione tra noi ma ormai è troppo tardi ad esempio per l'alfiere e la regina di oggi sono Daniele e Federica ci mandano questa foto direttamente da Atene anche se sono siciliani precisamente di Marsala questa foto è bellissima grazie mille ad entrambi fate i bravi ci vediamo domani e di nuovo buon inizio settimana